La provincia di Padova oggi è a Vinitali, ho voluto essere qui per incontrare tutte le imprese padovane del settore vitivinicolo. Io ho cominciato da Vignalta, una impresa di assoluta eccellenza che presenta non solo il proprio prodotto ma rappresenta un territorio, un territorio vulcanico che ha anche alcune particolarità che noi non conoscevamo, i capperi, i fichi d'India e poi anche il vino, un vino che è un'eccellenza non solo nazionale ma internazionale e che porta la provincia di Padova in giro del mondo. Siamo qui a Vinitali nel nostro stand e il messaggio che lanciamo quest'anno è che siamo vulcanici, come vedete questi profili delle nostre colline denunciano chiaramente l'origine vulcanica. E dall'altra parte abbiamo portato due fotografie che fanno vedere la vegetazione spontanea dei colli ugani, una varietà indigena di fichi d'India e i capperi sulle mura di Monselice. Quindi questo denuncia la mediterraneità dei colli ugani, quindi vulcani e microclima veramente fantastico per la coltivazione della vite e dell'ulivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.